Perché tu vai lì, prendi la casa che ti piace, vedi quello che c'è, giustino, e ti dici che alla fine no, giustino, ma stai parlando da solo, eh certo, non c'è nessuno, e cosa stavi dicendo, eh, cosa stavi dicendo, stavo dicendo che se ti devi comprare una casa nuova, devi andare nel sito www.quattronovoimmobiliare.com, lì ci sono un sacco di case in offerta, ma belle, convenienti, eh, tu scorri, scorri, vedi quella che ti piace, chiami Carlo Sanna, che è il titolare dell'agenzia, e lui ti sa indirizzare, ti fa fare l'affare della vita, capito? Com'è il sito? Il? Il sito! www.quattronovoimmobiliare.com Anche mia nipote l'ha presa la casa, capito? Il sito è V, l'ho già detto? Com'è il sito? www.quattronovoimmobiliare.com Ma tu sei assurda! Se è arrivato il momento di comprare casa, l'agenzia immobiliare Quattro Mori è la soluzione ideale. Quattro Mori è una giovane e dinamica agenzia immobiliare presente su tutto il territorio del sulcis iglesiente e tramite una rete di agenzie su quello sardo. Efficiente e sempre in grado di soddisfare qualsiasi domanda ed offerta economica, con professionisti qualificati e preparati, in grado di proporre diverse tipologie immobiliari. La Quattro Mori assiste i suoi clienti nelle varie fasi. Consulenza, gratuita per acquirente e venditore, pratiche di finanziamento e richiesta mutuo, fino a rogito notarile con la consegna delle chiavi dell'immobile. Quattro Mori immobiliare, una scelta sicura e conveniente. Beh, ascolta poco a poco, ma le pietre sono morbide? No. No. Allora ho schiacciato la cacca di un cane. Puh. Mi sembrava una pietra.